buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti bello che chi ci guarderà dopo su youtube non saprà niente di quello che è successo ora comunque al di là di quello ma avete visto un attimino prastornato perché adesso mi levo i bull glasses perché non vedo niente ma volevo andare a farvi vedere una cosa su twitter in particolare il fatto che forse listano luna su ftx c'è da votare ci arriviamo tra poco e mi è capitato mi è caduto un attimo l'occhio sul fatto che adesso oggi è una giornata ve l'ho detto maglietta verde bull glasses e tutto quanto e anche trending su twitter l'hashtag bullish ho detto vabbè adesso siamo completamente usciti di senno ma niente quindi tutto lì basta era questo che vi volevo dire ritorniamo ripartiamo da zero torniamo sulla terra come mai siamo tutti bullish perché sta pompando bitcoin non lo vedevamo da una vita ormai perché un pampettino che alla fine un più 8 per cento non è neanche un pump fenomenale per bitcoin non lo vedevamo da non so quanto eravamo abituati ormai solo a candele rosse e abituarsi così tanto solo a candele rosse vuol dire che appena vediamo un attimino di ripresa tutti vanno in full fomo mode massima attenzione mi raccomando per andare in full fomo mode perché non è ancora cosa guardiamo subito il grafico faccio subito quello antipatico no così potete poi disprezzarmi clamorosamente ma zoom out quindi guardiamo il grafico settimanale e ragioniamo a mente lucida mente lucida che di certo non è la mente di uno che si presenta con gli occhiali verdi bull glasses e la maglietta verde però cerchiamo di entrare in questo ruolo perché di fatto se da un lato potremmo aver fatto una year low sul settimanale il che sarebbe veramente una figata dall'altro manca la conferma qual è la conferma la conferma sarebbe superare questo ostacolo quindi io vorrei vedere una rottura un po decisa quindi senza titubanza c'è proprio bam entrarci dentro a gamba tesa dei 42 barra 44 mila vedete qua c'è questo clasterino verde è stato un intervallo no durante l'ultimo le ultime due onde ribassiste nonché il vecchio low settimanale quindi è un po una convergenza di diverse resistenze diverse aree di resistenza con il nostro fibonaccio secondo me proviamo a vedere tac è anche vedete il 78 e 6 quindi sarebbe nel caso in cui diversa volessero dimostrare la loro prepotenza sarebbe il punto ideale dove andare a dampare ancora quindi mi raccomando facciamo tanta attenzione non facciamoci prendere da una fomo prematura e teniamo d'occhio la situazione c'è del potenziale ma è ancora tutto da esprimere essere bullish in una situazione così a mio parere ancora un attimino fuori luogo e ragazzi cioè se riparte se bomba vi ricordate cosa vi avevo detto un po di tempo fa ho aperto una posizione long che doveva essere fillata tra i 32 mila e non mi ricordo fin dove ovviamente se dovessimo ripartire il low dov'è 32 mila e 800 giusto in tempo per non fillarmela e vabbè guarda ci sono magari i mega trader che vi dicono io sono entrato all'esatto bottom tac beccatevi questo ve l'avevo detto e io invece vi dico guardate sono uno sfigato ha messo l'ordine 800 dollari più in basso il mercato è ripartito con un bel dito medio verso di me non importa comunque siamo contenti lo stesso se riparte attenzione ripeto a questo livello 42 44 perché è una resistenza notevole quindi seriamente adesso tornando seri attenzione alla reazione qua perché se c'è un punto che tra l'altro è anche un potenziale entry short visto che la situazione sul sull'ultima ondata è ribassista e siamo sì macroscopicamente in un range però l'ultima ondata l'ultima l'ultimo trend di fatto di breve è ribassista e pertanto siamo su un bearish retest teoricamente no abbiamo una resistenza in uno scenario in cui i supporti vengono persi e le resistenze tengono quindi facciamo attenzione io sinceramente non non sono molto attratto da uno short speculativo qui per il semplice motivo che siamo nella zona bottom del range no quindi non lo so se c'è davvero se c'è un punto dove la domanda può dimostrare di farsi valere a questo e quindi io sto a guardare lo short di copertura è sempre il solito sempre aperto non lo incremento perché lo avrei incrementato se avessimo avuto una una rottura della base del range l'avrei incrementato poi al successivo rimbalzo non non lì al minimo chiaramente e quindi il mio piano rimane quello tengo il mio long aperto nella zona 20 28 32 mi pare che fosse non ricordo neanche più e vediamo vediamo come chiudiamo la settimana e come reagiamo con i 42 44 per il resto nel mondo altcoin tra poco poi arriviamo anche al resto alle notizie alle domande solite cose nostre insomma mondo altcoin abbiamo una situazione in cui ethereum ve l'ho detto sta mostrando un po i muscoli adesso è stato sgonfiato dal fatto che bitcoin essendo ripartito ha abbastanza prosciugato le energie di tutte le alt vedo tipico andamento no di quando si inverte repentinamente un trend cioè poi si inverte un trend parliamone ma intendo quando siamo sempre a ribasso improvvisamente c'è uno scossone a rialzo o viceversa di solito c'è un iniziale reazione così di petto delle altcoin e così è stato anche oggi ethereum stava veramente entrando in un trend piacevole ma c'è ancora dentro c'è stata questa fase di assorbimento proprio in corrispondenza del pump di btc comunque ve lo riporto all'attenzione perché ethereum anche qui andiamo sul settimanale che forse un pelo più chiaro potrebbe guardate ha avuto una bella reazione no questa tra la chiusura della scorsa e l'inizio della quest di questa perché la chiusura della scorsa ha evidenziato domanda con una shadow lunghissima l'apertura di di questa settimana invece sembra che sia un bel body l'apertura in realtà sta per chiudere ma la candela di questa settimana sembra che sia bella piena con un bel body verde ed è credo il massimo che si possa chiedere quindi anche in questo caso potremmo avere layer low e in questo caso abbiamo addirittura un cannellino rialzista quindi ethereum questo è il grafico contro bitcoin attenzione però in un periodo storico in cui le principali altcoin inclusi layer one layer two stanno soffrendo un po l'incertezza del mercato ve l'ho detto abbiamo visto l'ultima volta phantom avalanche harmony le abbiamo visto un po tutte pure cosmos atom che è quella diciamo che ha avuto un attimino più di impulso rialzista quindi soffre un po meno però quest'ultimo periodo che secondo me è un periodo veramente arido no questi ultimi l'ultima settimana in particolare si è toccato veramente un bottom di sconforto nei confronti delle cripto e in questo periodo hanno dei costrutti non piacevolissimi lato grafico mentre ethereum no ethereum al momento è un po un una pecora bianca possiamo dire in mezzo a un branco di peco un greggio di pecore nere meglio così perché di per sé frena un attimino la l'avanzata della dominance anche se non più di tanto perché oltre al di là di ethereum ve l'ho detto oggi tutte le principali coppie alt btc stanno un attimino soffrendo atom vedete ha avuto una un costruttino di top quindi ha trovato il suo high leg down adesso vediamo se fa una cosa del genere oppure se si riprenderà poi avalanche oggi avalanche positivo avalanche di fatto ecco sta tenendo abbastanza la struttura e c'è da dire avalanche all'interno di questo regione di zona top quindi niente male pensavo peggio ricordavo peggio phantom forse è lui che me lo ricordo maluccio ecco phantom maluccio perché vedete non ha l'offerta sembra essere dominante la domanda ha reagito un po qui ma quello che sembra essersi formata una sorta di test e spalle io non sono un grande fan di questi pattern ma che sia test e spalle che sia insomma un breakdown e retest bearish alla fine sta di fatto che non c'è la forza di andare a recuperare i massimi ed è ciò che conta no quindi anche phantom così così harmony pure lui vedete non benissimo dopo light che ha avuto l'ultima leg up è stata tutta assorbita quindi questo molto male da un punto di vista grafico e sol invece sta andando bene io ragazzi non ho mai visto un asset resiliente come solana nonostante tutti i problemi non problemi e quant'altro sembra che al prezzo gliene freghi meno di zero se da un lato io sono il primo a dire i problemi ci possono stare no quindi quando c'erano le congestioni una cosa e l'altra problemi comunque da non sottovalutare perché alcuni erano anche abbastanza gravi però in una fase così early non io non faccio parte di quelli che dicono la chain fa schifo perché ha avuto una congestione no l'hanno avuta tutti l'ha avuta polygon l'ha avuta harmony tutte queste chain scalabili no prima o dopo qualche problema di congestione ce l'hanno perché è facile spammarle è facile intasarle senza pagare eccessivamente troppe fee quindi quello non non so non me la sento di condannarlo ve l'ho detto e però mi aspettavo quantomeno che il mercato reagisce molto peggio perché di solito il mercato non perdona su queste cose ricordo che le volte che mi ricordo anche proprio storicamente quando bitcoin aveva avuto i suoi primi periodi di congestione c'era la guerra bitcoin versus bitcoin cash non so se qualcuno di voi c'era ma era proprio anche una narrativa usata da bitcoin cash cioè pensate col senno di poi viene troppo da ridere per screditare bitcoin e quindi appunto bitcoin stava dampando e bitcoin cash stava salendo ma eravamo veramente in un periodo ancora cioè molto molto immaturo mentre il problema wormhole di cui parliamo tra poco anche quello non ha impattato minimamente è vero che non è colpa di solana di fatto colpa di wormhole però sai di code anche lì mi aspettavo più speculazione invece no tranquillità totale anche perché attenzione non è vero cioè non è colpa di solana però impatta un po su solana il problema wormhole perché immaginatevi che casino se ci fosse stato una bank run quindi tutti che prelevano gli asset da wormhole cambiandoli in qualcos'altro cioè ti si prosciuga la liquidità nel bridge che è uno dei punti focali no dell'ecosistema solana e c'è poi il rischio quindi di perdita del peg di tutti i token wormhole e caspita quello è veramente un disastro un cigno nero abissale perché ftx l'integra saber e sunny l'integrano cioè immaginatevi il casino che ci sarebbe potuto essere nel caso di veramente di perdita del peg degli asset di wormhole comunque ne parliamo tra poco al di là di questo ragazzi pazzesco resilienza incredibile addirittura sembra aver rimbalzato sul sul range low vediamo adesso cosa ha intenzione di fare e poi la total market cap mi piace un sacco invece perché guardate questa ha l'aria questo movimento ha l'aria se viene completato di una deviation quindi quei movimenti fatti così vi faccio vedere proprio la il disegnino da libro di testo no quando abbiamo un supporto il trend che arriva tac magari lo rompiamo facciamo un movimentino qui e lo recuperiamo questo qui si chiama deviation insomma un nome per dire un falso un movimento ingannevole finalizzato poi a prendere liquidità lì sotto e poi ripartire è sempre fa parte sempre di di quei pattern un po manipolativi se vogliamo e molto bene perché guardate qui abbiamo sugli 1 75 trillion della total market cap un livello molto importante se ci fate caso e avevamo detto l'abbiamo perso abbiamo anche avuto un bearish retest nel frattempo adesso o facciamo una distribuzione ulteriore andiamo giù e c'era un altro 20 per cento di spazio per scendere o altrimenti tac ce lo recuperiamo e ricominciamo a fare un po di strada rialzo ecco se su bitcoin non abbiamo ancora neanche lo straccio di un segnale bullish perché bisogna essere onesti con se stessi qua invece un piccolo segnale c'è perché abbiamo recuperato una resistenza abbiamo questo non lo so quest'area di congestione chiamiamola pure deviation l'abbiamo ripresa e il suo top il suo high è pari appunto a un vecchio supporto barra resistenza quindi questo è un primo segno e poi chiaramente per andare a confermare la cosa dovremmo insomma andare a reagire con gli ai oppure fare perlomeno un higher low e cominciare un po alla volta a investire la struttura è un percorso lungo perché quando c'è un trend di bassista non è che tac dal giorno alla notte cambia boh siamo tornati bullish non funziona così bisogna avere pazienza saper aspettare saper vedere il quello che il grafico ci dice in questo caso ripeto gli ai e i low ci mettono un po a formarsi e a strutturarsi ma sono il nostro più grande indizio quindi questo è un po un'analisi preliminare della situazione adesso vediamo se abbiamo un bel pan pozzo in diretta come dio comanda magari da riprendere anche i 44 euro se succede una roba del genere io non lo so ci dobbiamo inventare qualcosa di celebrativo ma 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 dunque bene basta questo è quanto per ripeto l'analisi preliminare voi tenetevi carichi con le domande perché adesso vi airdroppo qualche notizia e poi tocca a voi partiamo cosa dite partiamo proprio a nota ftx è vero io vi avevo detto stavo andando su twitter a cercare e sono incappato in bullish in realtà ftx eccolo sta indicendo una votazione sul prossimo listing votazione che vede come contendenti al lato sinistro della ring appena me lo carica ve lo dico mi sembra near non mi ricordo se a sinistra o destra vabbè near e luna perché qua ormai vedo che non ha intenzione di caricarlo quindi bisogna andare a votare si vota in base alla quantità di ftp che si possiedono quindi più ftp possedete più il vostro voto vale eccolo esatto near a sinistra e luna a destra io non capisco perché fare tutto sto show e lì stateli tutti e due sue non rompete le scatole tanto prima o dopo sono due coin ottime entrambe vanno listate a prescindere ma voi potete votare vedete ftx.com slash vote se vi interessa chiaramente ma so che a molti interessa perché quando parlavamo di ftx uno dei punti deboli era ma non c'è luna è vero porco cane a me interessa continuare il mio pack su luna e quindi mi girano le scatole adesso hanno messo anche ust che però è l'ustrc 20 quindi anche lì magari poi integrano la c in terra sapete sarebbe veramente una è una mancanza di ftx quest effettivamente la c in terra peccato perché comunque è una delle chain a mio parere più interessanti beh comunque potete votare poi cosa stavamo dicendo prima di wormhole allora vabbè a parte che ne approfitto per dare una scillatina al nostro sito web che sapete si aggiorna ogni giorno con nuovi contenuti adesso tra l'altro sta per arrivare un nuovo editor nel nostro team perché un editor è diventato il nostro secondo formatore sapete che abbiamo le formazioni one to one c'è una lista d'attesa più o meno di tre mesi al momento e quindi abbiamo c'era un ragazzo che è il nostro editor che è veramente in gamba e cioè è bello proprio vedere persone così sul pezzo e quindi li abbiamo detto guarda se ti va visto che comunque sei strasulpezzo puoi passare a formatore con più responsabilità funziona così cosa vediamo se fa per te oppure no e adesso sta affiancando il nostro numero uno e vediamo un po' nel frattempo però ci serve il backup come editor bello perché tra l'altro durante una fase ribassista io mi aspettavo un po' di disinteresse generale ma il fatto che le persone vogliono studiare ragazzi mi riempie di speranza perché cioè è così che si fa no se uno non studia fa errori cioè bisogna capire un mondo che è sempre più complesso e quindi l'unico modo è veramente sbatterci la testa tantissimo potete farlo in maniera completamente gratuita perché io ogni giorno vi porto nuovi contenuti gratuiti e lo farò sempre ma se vi rimane quel dubbietto che volete qualcuno che vi seguo in prima persona sapete che potete contattarci bene quindi e questo per dire che sul sito ogni giorno ci sono nuovi contenuti anche nei tutorial abbiamo aggiunto adesso aggiungeremo la sezione fondamentali visto che abbiamo creato un po' di contenuti sulle varie coin sui vari layer 1 e 2 sulla defy abbiamo aggiunto cosmos insomma c'è ce n'è ce n'è ce n'è e vi volevo parlare di wormhole quindi arriviamo alla notizia wormhole cosa è successo non so se avete letto sicuramente sì perché non è neanche di oggi la notizia però non eravamo live quindi vi ho condiviso solo il post su telegram 120.000 v e th sono stati sottratti dal bridge wormhole come è successo allora è un po' complicato da spiegare non l'ho neanche capito bene io sinceramente perché non sono abbastanza tecnico ma di fatto hanno ingannato il bridge nel bridge ci sono dei chiamiamoli si chiamano guardian quindi guardiani di fatto che sono dei nodi che hanno il compito di verificare che io deposito esempio deposito 10 e th su chain ethereum e prendo 10 e th su solana ok quindi la corrispondenza tra il deposito il prelievo c'è tutto un procedimento di verifica che comprende delle firme criptografiche eccetera eccetera ma di fatto l'exploiter è riuscito a ingannare questi guardian e soprattutto ingannarli come andando a inviare una firma falsa diciamo una firma contraffatta che gli ha fatto credere di aver effettivamente depositato 120.000 ether in realtà non era così ma è riuscito tramite alcune falle no in alcuni specifici smart contract se poi andate a vedere il post che ho messo su telegram vi ho allegato un thread su twitter dove spiegavano tutto tecnicamente e ve l'ho detto è molto complesso perché si tratta proprio di come funziona lo specifico smart contract come funziona la firma di una transazione su solana solana un po più complicata rispetto a ethereum perché alcune funzioni che magari su ethereum sono delle semplici funzioni lì a loro volta sono smart contract quindi c'è un po più di confusione e si lasciano aperte più potenziali falle in caso nel caso in cui ovviamente ci si non lo so si ci sia una persona veramente in gamba perché cioè io veramente capire una falla del genere devi essere un fenomeno io c'è tanto di cappello peccato che è un white un black hat era meglio se era un white hat e partecipava alla quindi al fortificare il protocollo però insomma è tanto di cappello lo stesso perché non è da tutti e quindi niente sono stati sottratti 120 mila ether quando lo hanno scoperto hanno bloccato subito la piattaforma il protocollo pronto sam tutto bene guarda ci servirebbero 120 mila ether va bene va bene tieni tac e quindi qualcuno ce li ha messi di tasca propria con qualcuno a parte gli scherzi penso davvero che sia o ftx o tu quelle insomma i grossi investitori dietro solana perché di fatto solana è backed da alcuni venture capital importanti nonché ftx la stessa solana foundation e di tasca loro ce li hanno messi hanno peccato il problema hanno ripristinato la funzionalità e basta è come se nulla fosse successo nessuno si è impanicato perché non c'è stato un esodo di massa da wormhole nessuna delle coin di wormhole ha perso il peg quindi è stato veramente un problema un non problema ok al di là del precedente ma stupito molto tutto ciò perché mi aspettavo il panico generale però si vede che tutti avevano grande fiducia negli investitori di wormhole che avrebbero ripagato di tasca loro e 120 mila eter sono 321 milioni cosa vuol dire 321 milioni così bam incredibile cioè solo nelle cripto succedono ste robe non lo so poi cos'altro abbiamo da dire oggi di interessante a pangolin che è un dex su avalanche ha messo di default ust come come stable coin quindi se ti loghi in pangolin e vuoi fare uno swap così con una stable coin ti piazzano ust di default bravi così si fa perché sono pro le stable coin algoritmiche decentralizzate che in un periodo storico no di come si dice di regolamentazioni sempre più forti sapete ci vogliono ci vogliono anche quelle che altrimenti ritorniamo un po indietro al modello centralizzato se la stable coin deve essere una stable coin che è governata da un'azienda allora la defi perde un po di de no c'è sempre quel discorso lì se le transazioni sono censurabili eccetera eccetera comunque poi andando avanti a eccolo il nostro michael sailor che è un pazzo furioso scatenato che non gli basta comprare bitcoin ha detto è uno spezzone di questa intervista che ha che ha fatto mi pare ieri 3 febbraio si è di ieri ha detto ma guarda se microstrategy vuole essere ancora più aggressiva riguardo a bitcoin e quindi troveremo delle nuove opzioni per esporci a bitcoin inclusa collateralizzare i bitcoin per borroarci contro e comprare altri bitcoin quindi abbiamo un michael sailor in leva cioè qua finisce male qua finisce veramente male se andiamo in questa direzione quindi michael stai calmino non esagerare che poi ti fai prendere la mano mi sa che michael è partito con i cippini ma poi si è fatto veramente prendere un po la manina stai buono poi mars protocol attenzione questo è importante mars protocol è un protocollo fondamentale per terra perché il suo primo money market fatto e finito quindi una ave per dire dove si può utilizzare come collaterale per borroare anche gli asset di mirror cioè questo veramente va ad aggiungere secondo me una quantità di use cases pazzeschi immaginatevi questa cosa volete detenere una stock magari non facebook visti gli ultimi l'ultimo andato volete detenere boh l'sp 500 no che c'è su mirror andate ad acquistare il sintetico su mirror dell'sp 500 e in più lo potete collateralizzare su mars per borroare ust e metterli a rendita su anchor cioè tu detieni sei esposto all'sp 500 all'asset in questione ci borroi contro in più rendita è come se tu avessi un dividendo diciamo da quell'asset lì bomba bomba atomica e credo che aumenterà parecchio la liquidità nell'ecosistema terra quindi attenzione perché data stimata forse 21 febbraio c'è il famoso lock drop che dovevano ir droppare no all'inizio il come si chiama il mamma mia il token il loro token e quindi vediamo adesso immagino che con l'avvicinarsi della data e usciranno più dettagli su tutto tanto c'era un video mi pare di dan qr che è come fonte su terra è una delle migliori dove facevo un ema col col team di mars protocol e parlavano un po del lancio quindi se avete voglia di approfondire dateci un occhio si chiama dan q underscore r ve lo faccio anche vedere su sul tubozzo allora eccoci vediamolo vediamolo dan qr da stando sta perché non me lo mette per primo video eccolo qua vedete inside live with mars protocol quindi avevo sentito ho sentito un pezzo devo ancora finirlo perché un'ora e mezza di video ma insomma ripeto una buona un'ottima fonte ve lo scillo più che volentieri in inglese ma è scillabilissimo poi passiamo a cosmos passiamo a cosmos e parliamo della prima implementazione cioè una preview della prima implementazione dell'inter chain security di cui ne parliamo da tempo però non ci sono ancora date purtroppo ma siamo sempre più vicini no perché qua vedete una una sorta di preview che fa vedere le feature principali ovvero cos'è l'inter chain security adesso per lanciare una chain una coin su cosmos una chain di fatto ve l'ho detto non è che su cosmos lanci un token come su ethereum su cosmos c'è ad esempio chihuahua che ha la loro meme coin e ha una meme chain perché ha il suo set di validatori no alla sua blockchain cosmos funziona così e quindi anziché starti in paranoia per tirar su tutti e cento i validatori o più cosa fai usi quelli di cosmos di del cosmos hub no quelli che stacano atom e quindi tu in sostanza prendi in prestito la loro sicurezza che ai validatori comunque notevoli e autorevoli soprattutto e li metti a mettere al sicuro anche la tua chain oltre che la chain cosmos hub e li aumenta veramente la l'utilità di dei validatori di cosmos e di chi mette in staking atom perché se tu hai in staking atom non ricevi più solo atom come ricompensa ma ricevi atom più le lo staking di tutte le altre chain che stai validando oppure a cui stai delegando se non sei un validatore quindi tanta roba tanta roba perché veramente un grosso passo avanti questo è un pilastro fondamentale su cui costruire no il futuro di cosmos con una miglior token omics poi cos'altro abbiamo immutable ex che ha fatto una partnership con gamestop per quanto riguarda nfp e quant'altro poi tokamak perché ce l'ho aperto a sì perché hanno lanciato il una insomma in realtà non l'hanno ancora lanciato però stanno per lanciare il liquidi direction non mi viene mai il nome vedete qua dove si può andare nei reattori a mettere i voti ne abbiamo parlato no di come funziona si può farla promote e andare vedete a votare a scegliere dove vogliamo deployare la liquidità dirigere la liquidità il default è curva di solito e bene quindi niente interessante perché è un prodotto che sta crescendo sta evolvendo sta arrivando a maturità finalmente perché questa è una delle feature principali no dirigere la liquidità e poi inizieranno le liquidity wars vediamo vediamo un po come andranno le cose sapete io come la penso no la speculazione la sto facendo un po su quello interessante come guardate su curve ci sono già alcuni pool con i t token ricordate quando abbiamo fatto il video su tokamak abbiamo parlato del t token che in sostanza è il token liquid derivative quindi se depositiamo ad esempio alchemix alcx lo depositiamo sul reattore di tokamak noi riceviamo talcx e quindi poi possiamo metterlo su curva ad esempio no e quindi ripeto c'è la possibilità di dirigere la liquidità anche lì e insomma potrebbe innescare un loop abbastanza interessante qui ci sono tutti i vari dati eccetera quindi c'è un po di coming soon perché la directed liquidity non è ancora effettiva però secondo me la vedremo presto deployment offline poi l'ultima cosa eccola perché mi avevate chiesto anche ultimamente ci sono c'è un sacco di gente interessata mi chiedeva ma è il momento di iniziare il pack io non so niente come posso fare vorrei espormi su su un po di cripto eccetera eccetera e io di solito consiglio guardati se vuoi uno strumento abbastanza digeribile semplice da utilizzare vai a dare un'occhiata al video che ho fatto dove parlavo dei vari indici cripto indici di bitpanda che sono veramente semplici alla portata di tutti sono a gestione attiva ma fatta da bitpanda in realtà è fatta da un'azienda che ha una sussidiaria di vanek che è mvis che se l'andate a googolare la trovate è uno dei gestori di indici più importanti al mondo cioè veramente nella borsa tradizionale intendo e c'è un auto ribilanciamento ce ne sono di tre tipi tra l'altro di cripto indici c'è quello da 5 da 10 e da 25 e contengono le top 5 10 o 25 coin a maggior capitalizzazione e liquidità ribilanciate periodicamente quindi è una sorta di follow the trend possiamo dire e infatti se andate a vedere poi la performance è anche curioso vedere ogni tanto faccio anche questo esercizio di curiosità vedere come performano rispetto magari al solo bitcoin e tendenzialmente su soprattutto su un periodo lungo performano molto meglio perché di fatto poi c'è questa ottimizzazione ribilanciamento quindi se una coin che è dentro all'indice esce perché viene esce dalla top in sostanza si va in down trend viene sostituita con la nuova cioè noi non dobbiamo farci nulla e basta e lasciarlo correre e quindi è il prodotto ideale per chi non ha particolari capacità soprattutto per chi non ha voglia né tempo di starli a ribilanciare fare disfare oppure perché magari non ha capitali importanti no che quindi per ribilanciare magari soprattutto se sono 10 o 15 o 20 cripto non ha senso con mille euro ribilanciare in continuazione perché fai dei movimenti da 10 20 euro e allora questo ti fa tutto da sé e quindi tra l'altro ecco su bitpanda si può anche automatizzare il piano d'accumulo sui cripto indici quindi assolutamente interessante secondo me come prodotto ripeto a minimo sforzo e ottimo rendimento se volete tutti i dettagli con le fimi caffi ho fatto il video poi completo e magari ve lo lascio anche linkato qua durante qua in alto a destra su youtube lo vedrete per chi ci seguirà dopo e nella descrizione credo almeno non mi ricordo se ho già messo fisso anche il referral link di bitpanda oppure no beh però se non l'ho messo sarà ora di metterlo perché ne vale la pena è una delle piattaforme più interessanti quindi ve lo ve lo lascerò ve lo lascerò e basta adesso ho terminato ragazzi in realtà non ho altro da aggiungere quindi io lascerei la parola a voi cosa cosa ne dite andiamo a vedere un po cosa c'è di interessante allora l'anno scorso il top 10 ha fatto quasi il 300 per cento giusto e guarda si può andare a verificare in realtà il top 10 se andiamo a vedere una adesso un anno è con anche il dump no e siamo al più 50 per cento e siamo praticamente ai miei vedi è un andamento sempre più simile alla total market cap e meno al solo bitcoin di fatto per rimanere noi in tema dei nostri grafici poi cronos chain cronos chain cosa cosa cronos e non ci sono particolari novità sulla cronos chain mi pare però sta crescendo sempre a delle piattaforme valide wws finance qualcuno di voi mi ha parlato di mm qualcosa che devo devo me la sono segnata da studiare quindi ci darò un'occhiatozza poi luke ma gli apy di sanni in picchiata libera e ragazzi gli apy di sanni dipendono dal prezzo di sanni ed è un token dampabilissimo quindi attenzione a questa cosa sono volatili gli apy di sanni in caduta libera perché lo ust usdc 30 per cento non lo so non mi sembra in caduta libera li avevamo visti l'ultima volta questo era mi ricordo che avevamo parlato di questo ed era non mi ricordo se 15 era un po più alto ovviamente però caduta libera dai adesso c'è di meglio è di sanni devo dire su su altre chain in particolare phantom è interessante adesso come defai a rischio sensato diciamo allora 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 mmf e mmo dove puoi mettere anche nft come boost esatto esatto ma chihuahua può essere la nuova shiba aiuto non lo so non lo so non lo so sinceramente può essere ma non lo so non non fa parte non fa parte delle dei miei particolari interessi ecco allora cronos ha annunciato dot nella chain ah sì ma va interessante molto interessante puoi guardare luna certo che sì luna non benissimo è il grafico anzi anzi è un'altra di quelle che sta soffrendo di più ha fatto un costrutto di top rotto a ribasso leg down fortissima impressionante sta leg down sette giorni rossi a fila e adesso sta un attimino lateralizzando ma non lo vedo bene il grafico perché ho veramente la domanda adesso si fa risentire ma c'è anche qua ce ne vuole perché per recuperare da una scelta uno scenario così devi o vabbè ripartire subito cannone improbabile oppure ripartire un po e poi fare quantomeno un higher low perché altrimenti c'è il rischio di fare cose così c'è il rischio di fare un po di lateralità insulsa e quindi di avere comunque un uno spettro probabilistico più tendente al ribassista che altro quindi magari è il momento che scarica un po ma male non gli fa ragazzi perché ha fatto un andamento parabolico malsano quindi è il momento veramente di scaricare avalanche come se la passa ma l'abbiamo visto all'inizio non è malaccio in realtà avalanche a ust da oggi su q gira davvero davvero ma perché non le vedo queste cose per quale motivo eccolo otto minuti fa è freschissima come cosa wow ma che meraviglia ma che meraviglia allora vediamo leggiamolo tutto insieme oggi twitter mi sa che sta un attimino arrancando è allora come funziona non so se avete presente come funziona q gira ma in sostanza serve per fare da liquidatori su anchor quindi voi andate a biddare si dice non condannatemi se uso parole inglesi purtroppo qua sono frequenti e si l'italiano è bellissimo piace molto anche a me ma non condannatemi per questo in ogni caso si va a biddare a un premium che si decide no decidiamo noi questa è una sorta di order book immaginatevelo dove quando si scatenano liquidazioni in anchor si va a filare a partire da quello col premium più basso perché è più vantaggioso chiaramente per l'utente di anchor no che paga un paga meno di fatto la sua liquidazione se il premium è del 2% siamo fortunati che ci bidda cioè andiamo a finire su quello al 2% vuol dire che noi veniamo liquidati e perdiamo un 2% nel cambio del collaterale nella vendita del collaterale e poi così via di solito vedete si poteva biddare in ust perché comunque noi andiamo a decidere non lo so voglio mettere 100.000 ust al 6% bene se viene liquidato e vengo fillato io i miei ust vengono cambiati nei biluna del povero sventurato e li acquisto col 6 per cento di sconto questo è ciò che accade no e adesso è possibile anche biddare con gli aust bellissimo perché cosa fai hai gli ust li metti a rendita su anchor ottieni a ust e li biddi su kugira perché non devi più vincolare i tuoi ust per avere i biluna in sconto così ottieni la rendita e nel frattempo se c'è una spazzata che liquida gente ti filla l'ordine prendi pure i biluna in sconto bene non vedevo l'ora di sta roba poi qua ti spiega come funziona eccetera 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 a ust bidd threshold te la fa vabbè ti fa scegliere appunto il livello di dove dove vuoi mettere il la tua offerta e così via e poi basta poi il resto del funzionamento è lo stesso quando vieni fillato vai a riscattare il tuo il tuo premio il tuo i tuoi biluna o quello che è con attenzione puoi andare a pagare in kuji e mi pare che paghi molto meno in fee oppure in direttamente in ust e allora hai una fee che non mi ricordo qual è però mi pare che sia il doppio e la metà dipende da quello poi avevo è what next che meraviglia arrivano bisol beatom e s avax e quindi il borrow di anchor crescerà noi stiamo parlando con quattro money market cross chain che vogliono integrare che meraviglia quindi in sostanza c'è sempre più interoperabilità con bisol beatom e avax i liquid staking integrati come collaterale su anchor kuji era chiaramente gode perché c'è più roba da liquidare e i money market non ho capito perché perché non so cosa ci abbia a che fare kuji era con i money market che non lo so magari ti inizia a dare un liquid derivative anche l'uno non lo so aiuto non voglio fare troppo troppe proiezioni però è un ecosistema interessante dai questo ammettiamolo quindi lasciamo lasciamo sgonfiare luna lasciamo sgonfiare tutto allora su mm finance uscirà un fork come tomb i fork di tomb mi spaventano un attimino hai messo il cipino su pavia fantastico pavia il metaverso di cardano guarda se già non sono un grande fan dei metaversi figurati dei metaversi su cardano ma ragazzi mi sono segnato una cosa nei video da fare cioè di fare un video su cardano imparziale dove lo spiego perché me lo state chiedendo in tanti dite ma però non ne parli mai ne voglio parlare giuro non da hater quindi farò un bel video tutto quello che c'è da sapere su cardano e vedrete vedrete dai e non non il primo aprile non lo faccio uscire il primo aprile poi 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 quando un bel video su q gira ma non c'è moltissimo da dire in realtà non è che c'è tantissimo da dire phantom sta soffrendo phantom non sta soffrendo però ha avuto una bella mattata no vedete è sul insomma è in zona dei primi supporti non ha una bellissima configurazione ma direi che no soffrendo no è qualcos'altro poi come vedi cro come vedi cro allora cro btc facciamo perché se no non ha tanto senso è ancora in questo canale quindi io lo lascerei sgonfiare ancora un po così a naso e tanto meglio perché insomma queste salite paraboliche non fanno bene anche se uno vuole investire a lungo termine perché cro comunque a valore è una di quelle coin che hanno valore spiace un po entrare a prezzi così alti no dopo una corsa parabolica e quindi questa situazione cosa ne pensi delle cripto gaming sovrapprezzate secondo me abbastanza sovrapprezzate essi essi però tra l'altro che dopo il dump di 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 meta facebook non abbiano adampato anche le coin tema metaversi ma quando un bel video su near protocol anche quello volevo fare riepilogando i video che volevo fare volevo farlo su near su secret secret network su cosmos su cardano seriamente e su tranches anche che è un protocollo defy abbastanza interessante volevo quasi farvelo ieri pubblicarlo ieri ma poi mi è venuta quella pensata lì e bene mentre per quanto riguarda il corso di defy che vedo che me lo state chiedendo in realtà io ho riguardato l'elenco degli argomenti e li abbiamo trattati tutti quindi sarebbe anche finito non lo so potremmo fare una puntata finale con un q a cosa ne dite dove voi mi fate le varie domande tutte però a tema corso defy cioè cose che non avete capito da lì non lo so potrei potremmo concluderlo in questo modo un video sulle strategie ma in realtà le strategie poi sono sono ne abbiamo fatta ne abbiamo vista una che è un po quella o lì inclusive le altre sono sono quelle cioè sono delle sue varianti non so neanche se ha tanto senso andare a fare chissà quale video su su strategie perché ma non lo so un video di come tieni traccia degli investimenti dei fai in noia mortale però perché il fuso un excel mamma mia cosa ne pensi di pancake e pancake sta abbastanza dampando è perché farm and dump veramente spinto pancake va che roba bruttino è che dopo dopo la fase rialzista che è culminata in cos'era il periodo shitcoin no mi ricordo periodo di massima fomo quando si farmava sulle stable su pancake 50 40 per pazzesco pazzesco di apr e adesso invece in downtrend quindi no è abbastanza è abbastanza intoccabile cake ma tra l'altro l'auto cake quanto cioè è ancora al 70 per cento o sta scendendo a sua volta perché me lo me lo stavo chiedendo e mi controllare per curiosità e era nei puls auto che ai fok che eccolo qua vediamo vediamo se me lo hanno sempre sempre sul 60 viene tiene botta tiene botta non so non ho più visto se hanno modificato qualcosa nella token omics di cake però purtroppo non sembra in gran forma grafico cvx grafico cvx assolutamente sì assolutamente sì assolutamente sì vediamo cvx btc purtroppo è corto questo grafico cvx usdt non sono un grande fan perché va a apprezzare un po' bitcoin allora cos'era dex tools ma avevate consigliato vero dex tools launch up vediamo dovrebbe avere un po' di prezzi saitamo mamma mia via andiamo via da queste questa roba che mi vengono i brividi cvx e però non c'è btc giud siamo più scemi di prima vbtc neanche cvx purtroppo con etereum non so non so come guardarlo sto benedetto grafico perché contro bitcoin vabbè in quest'ultimo periodo non sta andando benissimo ma perché insomma convex ha fatto anche un prima di qua c'è una fase abbastanza rialzista però anche questo insomma io io l'ho ribilanciato giusto l'altro giorno perché fa parte della parte spec del mio del mio portafoglio quella piccola fettina speculativa e cioè son più contento se scende nel senso perché ribilancio era quella la strategia no di dire durante il bear market le coin si sgonfiano si ribilancia e così via ma come tokemak era era l'altra no assurdo come la tua voglia di accumulare l'una ti porti a dire che deve scaricare quando in realtà e lo sai benissimo e la chain che rende meglio di tutte fa davvero innovazione a me lo dici che sono il fanboy numero uno di di terra scaricare io parlo di prezzo perché anche l'asset più bello del mondo se ti fa un per cento poi scarica cioè è mercato no perché c'è talmente tanta gente in profitto che prima o poi lo realizza quel profitto non è che tutti holdano all'infinito e quindi è banalmente legge di mercato però non ho non ho dubbi è del della bontà della chain cioè trovami una volta che ho parlato male di luna e non la trovi non la trovi proprio ecco bravi questo di questo ne volevo parlare firmato il ministero dell'economia il decreto che regola le attività degli operatori aspettate che l'ho perso perché è scappata è scappata la è scappato il messaggio mannaggia mannaggia dove sta dove sta eccolo qua il regola degli operatori di criptovalute spiegaci la nuova legge italiana sul registro l'anagrafe delle criptovalute allora andiamo la recuperare anagrafe dritto vediamo che poi anche questa tra visace vedete che il fare notizia è proprio spazzatura a volte cioè avevo letto un articolo che aveva un titolo che mi ha fatto venire i brividi tipo la dichiarano guerra cos'era il ministero dell'economia dichiara guerra le cripto ma no non dichiara guerra nessuno cioè è semplicemente adesso vediamo se ve lo vado a trovare eccola in sostanza una proposta e adesso ancora poi da portare da far approvare no di fatto è una proposta di dove aspettate che volevo vedere se c'era se c'era la bozza stessa beh in breve in sostanza le gli exchange e i wallet custodial diventeranno come intermediari finanziari no quindi devono mandare i dati al oam mi pare che si chiami a un organo di vigilanza organismo agenti e mediatori esatto oam dicendo tutte le transazioni che sono state fatte trimestralmente mi pare di aver capito e devono iscriversi ci sarà l'obbligo teoricamente di iscriversi a questo registro quindi se un exchange vuole operare in italia deve iscriversi a questo registro e mandare i dati ma cioè non mi sembra una cosa così assurda anzi io spero mi auguro di due cose che venga portato in vigore gradualmente non che dicono boh da domani oscuriamo tutti gli exchange perché nessuno è iscritto all'organismo di vigilanza date te comunicate parlatene di te integriamo c'è tutto e si arriva a un punto in cui questo flusso funziona ma è una cosa secondo me che anzi ben venga ben venga perché è una regolamentazione che prima o poi va fatta cioè non ha senso pensare che le operazioni fatte sugli exchange devono rimanere non tracciabili anonime perché non è così ma lo sappiamo tutti no che non è così e non deve essere così e quindi non è niente di folle cioè semplicemente una regola per cui bisogna gli exchange operano come degli scambi degli intermediari finanziari ma lo sono di fatto e quindi ognuno di noi avrà in teoria ma cioè magari fosse così no perché così uno può verificare può sapere le operazioni che abbiamo fatto e senza impazzire no anche l'atto dichiarazione cioè magari davvero ci sarebbe più più semplicità per noi utenti finali se la cosa viene fatta bene cioè io mi auguro davvero che ciò venga portato avanti nel modo corretto perché in tal caso è veramente è un passo avanti e io sono sono contento sinceramente se si comincia a fare adesso quell'exchange lì non ci ha fatto che chiudiamo oscuriamo diamo tempo di comunichiamo tra piattaforme e regolatori per fare le cose per bene insieme perché credo che sia interesse di ambo le parti questo è un po in in sostanza il 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 riassunto di quello che è accaduto quindi niente di atroce no è soltanto due cose l'obbligo per le piattaforme che vogliono operare in italia di aderire a questa cosa e il fatto che trasmetteranno i dati delle transazioni eseguite basta non so cosa ne pensate voi cosa cosa ne dite di di questa cosa me non sembra così assurda ecco ripeto dipende da passare le tasse sti puzzolini mi sei piaciuto mi sei piaciuto binance ita io penso che prima o poi in tutto il mondo cioè ci sarà una una regolamentazione di questo tipo cioè non ha senso non farla no perché se non la fai poi non sai mai bene guardate anche adesso no che un sacco di gente ha paura a compa non sa dove comprarle cripto perché se poi il fisco mi chiede io non so cosa dire con una cosa così loro hanno i dati e non ci sono neanche troppo troppi dubbi ecco cosa ne pensi del bull una osmo all'80 per cento su osmosis allora allora luna osmo su osmosis e poi ecco riguardo alla tassazione andrebbe fatto un po bene con le plus valenze le minus valenze anche in teoria cioè una cosa un po più ad hoc perché altrimenti è il classico ci guadagni mi prendo la mia parte ci perdi i cazzi tuoi quindi quello non benissimo e quindi vabbè ma ragazzi siamo in italia cosa cosa ci volete fare siamo siamo pur sempre in italia cioè ridiamoci su ma è così allora luna osmo mai detto non lo sapevo ma è nuovo non dovrebbe allora vediamo luna luna osmo eccolo loading vediamo l'apr 80 per cento hai detto non sarebbe malaccio non sarebbe malaccio anche perché osmo 100 per cento ok è un po inflattiva osmo e ne ho parlato nell'ultimo video su su cosmos no che osmosis è uno dei migliori progetti in assoluto perché 111 ma che che sta succedendo e perché di fatto è il dex di riferimento su cosmos il problema è che il token osmo la coin osmo anzi è inflattiva cioè se andate a vedere la token omics vediamo se riusciamo non ricordo dove si va a recuperare il white paper da qua vabbè niente magari ve lo ve lo alleggo da qualche parte ma avevo lei avevo guardato tutto il grafico della diluizione nei primi anni è altissima purtroppo questa è una debolezza di molte di queste coin farmabili su medium di osmosis allora vediamo se riusciamo medium vediamo se la troviamo al volissimo liquidity mining 101 non mi ricordo qual era proviamo ad aprire tutto io di solito faccio così apro tutto scorro velocemente vedo se qualcosa cattura la mia attenzione esatto tipo questa vedete token release schedule anno 0 dall'anno 0 all'anno 2 bram va che inondazione si spalancano le acque e quindi insomma cioè non non fa venire tanta voglia di il darla sarete d'accordo con me non ho l'acqua ghiacciata sospacciato e senza nulla togliere la bontà del progetto però con una tokenomics del genere cioè non lo so non so cosa ne pensate questo è un po il mio pensiero la mia idea poi allora 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 avere un pack su bitcoin e fare un ribilanciamento ogni mese su tutto il portafoglio ha senso beh in sostanza vuol dire che lo che tu non hai un pack su tutto non cambia nulla no se tu ribilanci problemi per chi non ha comunicato comunicato il quadro revu doppio ci beccano tutti come si fa a capire le plus valenze ma non lo so ragazzi adesso piano anche con gli allarmismi il quadro revu doppio va compilato compilatelo perché non vi costa nulla cioè è veramente semplice compilarlo ci sono tanti commercialisti che vi possono aiutare cioè fatelo non non vuol dire pagarci le tasse no le tasse sono una cosa parre il quadro revu doppio il mio consiglio spassionato è compilatelo non non chiedetevi dichiaro non dichiaro non costa nulla compilatelo dichiaratele perché è giusto così e se non l'hai compilato rivolgiti a un commercialista ti da una mano nel senso secondo me non devi aver paura che arrivino col forcone sotto casa ecco dunque dunque io adorato alla follia il tuo trading consapevole volume 1 e volume 2 visto e rivisto qualche video integrativo con tricks e qualche nuovo approccio grazie mille perché no perché no perché no e sai cosa pensavo di fare anche un'ora è già passata mamma mia ma sai cosa pensavo di fare visto che mi sembra che ci sia un attimino cioè il nostro pubblico è cresciuto molto e mi sembra che ci sia un attimino di lacuna su alcune basi quindi io volevo fare un nuovo corso che a me piace no fare questi corsi come quello di defy di trading e così via un nuovo corso ma sulle basi che cos'è bitcoin che cos'è ethereum come funziona che cos'è uno smart contract non lo so vi potrebbe piacere vi potrebbe interessare sempre gratuito chiaramente sempre su su youtube con le nostre slide e così via defy su opzioni sì vabbè qui andiamo qui andiamo a livelli folli no io pensavo davvero di partire da da zero da zero di di fare veramente un corso per chi arriva non capisce niente di cripto non è che vuole imparare la defy vuole imparare le cripto e secondo me ci vuole molti non sanno neppure cos'è come funziona la blockchain esattamente corso su shiba e doge puntata 1 non comprateli fine del corso fantastico ma fai anche contenuti per esperti ragazzi alla fine le live i video cioè comunque sono sempre attuali no le live parliamo delle novità defy parliamo del delle novità quindi bisogna essere già sul pezzo i video alla fine ne faccio due alla settimana quell'altro lo tengo per argomenti di attualità e l'altro lo dedichiamo al al corso di base ecco quindi che poi ti rimane lì un corso che ti rimane lì e così se uno poi vuole partire parte da lì ecco se ha un riferimento da da cui iniziare quindi ci potrebbe stare ci potrebbe stare grafico ziii hai visto giuno grafico ziii cosa li abbiamo visti tutti all'inizio i grafico ziii mannaggia e allora giuno se ho visto che è entrato in top 100 mi pare eh ma giuno a me piace a me piace assai piace assai e tra l'altro secondo me arriveranno anche dei belli airdrop do sta do sta do sta dove non era in top 100 dopo è già ridampato per per via del pump di bitcoin sembrava di averlo visto in top 100 stamattina do gelo mars e dov'è ragazzi dov'è giuno giuno rank 2008 mi sa che mancano i dati qua comunque cocane è stato l'airdrop di di meta no in questo periodo niente male comunque e io vi butto lì che se non sapete dove se avete dei giuno no consigli finanziari decidete voi ho fatto il video dove l'ho spiegato un po no giuno ho dedicato anche una decina di minuti e se vi interessa perché vi interessa voi non perché ce l'ho io mi raccomando io non ce l'ho tra l'altro il validatore vi stavo per dire proprio perché non non volevo espormi dire su cosmo sto adottando questa strategia cioè non di espormi direttamente ma per cambiare un po no fare i validatori l'ho fatto su desmos e su giuno e magari potrebbero non essere gli ultimi e quindi se volete metterli in staking e non sapete dove metterli ragazzi c'è il validatore nostro dunque giunoscan.com vediamo e tra l'altro ha un apr mica male in staking oltre ai possibili futuri airdrop oltre ai possibili futuri airdrop l'API l'APY cacchio non mi ricordo dove si vedeva però mi pareva intorno all'80% l'APY di staking altrimenti c'è su osmosis però ci sono un bel po' di pool di giuno su osmosis eccoci qua se avete voglia di delegarlo c'è il nostro validatore che non gestisco io direttamente perché tecnicamente sarei un cane e lo faccio fare a chi è in grado quindi assolutamente c'è gente più in gamba di me a riguardo e niente dai no non fateci uscire dalla top 125 delegate delegate non posso dirlo non posso dare conigli finanziari allora amici io con questa vi saluterei con questa vi saluterei e basta adesso rimaniamo rimaniamo un po' sul pezzo per il disco farò qualche sondaggino magari per il discorso corso base che però un'idea che non mi non mi dispiace affatto e basta per il resto sempre sul petto sempre sul petto noi ci rivediamo lunedì di nuovo live vediamo come ci avrà lasciato bitcoin facciamo un ultimo scongiuro qua apriamoci il graficotto ci salutiamo con i bull glasses direi che portano bene o no speriamo che portino bene tac e quindi amici miei ci rivediamo il prossimo lunedì voi fate i bravi e siate sempre gasati perché a prescindere da come vanno le cose nelle cripto bisogna essere gasati ma non fanatici gasati di voler imparare voler studiare voler capire di più non deve bastare mai la conoscenza questo è l'approccio giusto e buon weekend e l'unica cosa rossa che voglio vedere anche questo weekend è il negroni basta buona serata e alla prossima